Sanità, infrastrutture, porto ed ospedale, presidio da salvare, porto da rilanciare sono i temi che in queste settimane riempiono l'agenda politica del sindaco di Sapri Giuseppe del Medico. Ma andiamo con ordine. Domani i sindaci del Cilento e del distretto sanitario competente territorialmente si ritroveranno in un tavolo di concertazione per attirare l'attenzione sulla rete degli ospedali minori che rischia di essere penalizzata dall'emergenza del settore in Campania. Ovviamente quello che non dovrà mancare è il dialogo con la giunta regionale per cercare una soluzione. Tutta la sanità campana, spiegato il primo cittadino del Medico, è penalizzata dall'applicazione della norma che blocca gli straordinari, ancor più quelle strutture che risentono delle carenze di personale. Insomma i presidi vanno in tilt come accade per Sapri e poi c'è la vicenda del riordino che incombe per il distretto Sapri-Camerota. Da un lato la preoccupazione dei sindaci, dall'altro i timori dei cittadini di restare senza cure. Una situazione difficile che richiede uno sforzo maggiore degli amministratori per dare delle risposte immediate a fronte delle emergenze che vive al territorio. Insomma operatori, utenti, amministratori, associazioni insieme per difendersi e cercare una via d'uscita da questo percorso rispetto alla riorganizzazione del settore sanitario dalla rete d'emergenza a quella ospedaliera. La situazione è difficile, ha detto del medico, e non cediamo, difenderemo il nostro territorio. Altro capitolo, il porto di Sapri. Finalmente è riaperta la discussione istituzionale con la regione. Il comune ha riferito al sindaco, si è candidato ad essere soggetto attivo nella gestione degli impianti. L'importante, ha detto del medico, è normalizzare i rapporti con tutti i soggetti che gravitano nell'area porto, così da definirne il rilancio e programmare la sua rinascita. Grazie. 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 Grazie.